Le stime date dalla Cassa Edile, quindi dati reali, parlano di mille posti di lavoro persi nell'ultimo anno, soltanto che a Genova, duemila nella nostra regione. È un settore che davvero è più in sofferenza, ma è un settore che avrebbe margini di sviluppo e di crescita enormi. Certo ci vuole che la politica a livello nazionale e a livello regionale, è il motivo che siamo venuti qui questa mattina, deve avere coraggio e ci deve aiutare.